Nino Galloni, economista, ex direttore del Ministero del Lavoro, uno che di cose in questo paese ne ha viste tante. Benvenuto su BioBlu.com a queste interviste volute dalla rete. Io ero rimasto molto colpito dalla tua affermazione in un convegno che hai ripreso e mesi sul tubo, su YouTube, intitolando il video Il funzionario oscuro che fece paura a Cole, dal tuo racconto del processo con il quale siamo entrati nell'Euro, in cui tratteggiavi questa decisione assunta dalla politica italiana di un vero e proprio progetto di deindustrializzazione del nostro paese e mi sono sempre chiesto, ma perché mai alla fine la politica avrebbe dovuto decidere questo strangolamento, questo inarredimento, la morte del nostro tessuto produttivo? E ho cercato via via delle risposte nel tempo, ma oggi che sei qua forse queste risposte ce le puoi dare tu? E' un processo quello di deindustrializzazione che parte da molto lontano, riesci a farci così una carrellata di eventi e poi arriviamo al focus? Io credo che la data dalla quale dobbiamo necessariamente partire sia il 1947, quando al Trattato di Parigi si cede, De Gasperi cede una parte della nostra sovranità, ma in cambio ottiene il riassetto di certi equilibri, la componente social comunista esce dal governo, ma manterrà una grande influenza nel campo creditizio e questo vedremo, sarà un fattore decisivo poi una trentina di anni dopo. Gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo perché chiaramente gli aiuti del piano Marshall erano condizionati all'uscita dei comunisti dal governo, in realtà Togliatti giustamente si lamentava del fatto che ci fosse questo ricatto, ma era perfettamente consapevole di doverlo fare, di uscire dal governo, anche perché tutto sommato alla Russia stalinista non faceva comodo un partito comunista al governo, come poi trent'anni dopo non farà scomodo il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, che tutto sommato era stato additato come interessato a far avvicinare i comunisti all'area di governo, cosa che poi potrebbe essere sfatato. Ma torniamo all'industria, quindi nel 1947 la produzione industriale, per non parlare della produzione agricola italiana, è a livelli del 1938. Il paese è semidistrutto, tuttavia inizia una ricostruzione. A un certo punto di questa ricostruzione, in cui hanno un ruolo le industrie energetiche, quindi Mattei, ma si comincia a sviluppare in modo sorprendente anche il nucleare, ci si trova già negli anni Sessanta nel miracolo. Piccole industrie, grandi industrie, industrie a partecipazione statale soprattutto e anche cooperative, trainano l'Italia in una situazione completamente diversa. Negli anni Settanta scopriamo che abbiamo superato l'Inghilterra, scopriamo che ci stiamo avvicinando alla Francia, scopriamo che possiamo dal punto di vista manifatturiero andare a dar fastidio alla Germania. Nel 1971 si sgancia la moneta dall'oro e questo rende teoricamente tutto più facile, gli aumenti salariali, anche in termini reali, la spartizione dei guadagni di produttività che va in parte ai lavoratori, quindi aumentano i consumi, aumentano le vendite, aumenta il valore delle imprese, questo è un concetto fondamentale che oggi è stato completamente dimenticato. Oggi la consapevolezza e l'orizzonte delle imprese, e di questo ha grave responsabilità la Confindustria, è ridotto all'immediato, al profitto annuale, invece le imprese dovrebbero traguardare obiettivi di crescita del valore delle imprese stesse in modo di contrattare poi con le banche tassi di interesse buoni e invece manca completamente questa consapevolezza. Comunque, gli anni 70 eravamo all'apice. All'apice e diciamo che forse l'anno di maggiore crescita è proprio il 78, che è l'anno non a caso del rapimento di Moro. Cioè noi stavamo raggiungendo e superando le altre economie avanzate. C'erano stati altri segnali gravissimi di attacco al sistema italiano, come appunto l'omicidio di Mattei, ordinato perché aveva pestato i piedi alle sette sorelle in Medio Oriente, trovando una formula che ci aveva dato una posizione nel Mediterraneo veramente ragguardevole dal punto di vista della politica estera. E non ci dimentichiamo che Moro era amico degli arabi moderati, quindi aveva contro Israele e aveva contro gli arabi estremisti. Poi abbiamo visto che aveva contro la Russia che non voleva un avvicinamento del partito comunista italiano al governo e anzi mal sopportava l'importanza in Europa di questo grande partito e gli americani che temevano, questa è la versione non dico ufficiale, ma su cui concordano molti osservatori che dobbiamo, va citato in questo caso alla ricostruzione di mio padre che era il principale collaboratore di Moro a quei tempi, per cui l'avvicinamento del partito comunista all'area di governo, secondo gli americani, secondo i loro centri studi, i loro avrebbe potuto vanificare il principale piano strategico di difesa dell'Occidente nei confronti della Russia sovietica, che aveva una supremazia evidente di terra, quindi un'avanzata dei carri armati sovietici attraverso la Germania orientale potrebbe essere fermata prima che i carri arrivassero nella Germania occidentale solo con degli ordigni atomici tattici che erano necessariamente e solo piazzabili e piazzati nel nord-est dell'Italia. Quindi se non si poteva fermare con armi atomiche nucleari tattiche l'avanzata dell'esercito sovietico verso Occidente, l'Europa era persa e quindi gli americani se ne sarebbero dovuti andare dall'Europa, conseguentemente dal Mediterraneo che diciamocelo sempre, abbiamo sempre presente, è l'ombelico del mondo. Ma questo è un quadro teorico, non è… Spieghiamolo bene, in cosa c'entra Moro in questo quadro? Cosa c'entra Moro con le bombe nucleari? No, c'entra perché se Moro faceva riavvicinare i comunisti al governo, si pensava che i comunisti avrebbero posto un veto all'uso di ordigni nucleari anche nel caso di un'avanzata dei carri armati sovietici verso Occidente, ma erano scenari che gli americani fanno continuamente, non è detto che le politiche si debbano ispirare a quello. C'è un fatto di cui ci sono testimonianze certe anche della famiglia di Moro e che Kissinger gliel'aveva giurata, aveva minacciato Moro di morte poco tempo prima, Moro l'aveva riferito alla famiglia e la famiglia aveva detto ritirati dalla politica, cosa che poi lui non aveva fatto ma non si sa poi che cosa avesse in mente di fare dopo quel fatidico marzo 1978. Quindi le Brigate Rosse in realtà avevano avuto un ruolo? Le Brigate Rosse dobbiamo distinguere, le prime Brigate Rosse per capirci quelle di Curcio che erano un fenomeno promanante dall'incontro fra l'estremismo, un certo tipo di estremismo marxista-leninista che bene o male aveva un legame col Partito Comunista anche se lontano e forse che tutto sommato ancora partigiani, ex partigiani che avevano conservato le armi anche perché si sapeva che dall'altra parte c'era la minaccia di una… in tutti gli anni 70 e anche forse prima sono stati vissuti con l'idea che potesse esserci un golpe di destra quindi partigiani e ex partigiani avevano conservato armi soprattutto nel nord in qualche modo quindi l'idea, una certa continuità col terrorismo si può anche vedere. Le seconde Brigate Rosse, quelle che per capirci rapirono Moro eccetera eccetera invece sono fortemente collegate con i servizi, con deviazioni dei servizi, con i servizi americani, israeliani ci sono evidenze ormai incontrovertibili su questa lettura. Ecco, torniamo all'industria. Allora, il problema qual è? Il problema è che in pratica il gioco è quanto e come ci avviciniamo all'Europa quanto e come sviluppiamo l'economia italiana che già appunto era arrivata a livelli come abbiamo detto di eccellenza e allora ci sono due strategie fondamentalmente c'è la strategia più moderata che vuole l'Europa che faceva capo anche a Moro ma che faceva capo anche a Paolo Baffi governatore della Banca d'Italia e ad altri personaggi del mondo economico e finanziario italiano e poi invece emerge una posizione più estremista pro Europa che praticamente fa propria l'idea che si debbano combattere la classe politica corrotta e clientelare tutte le sue espressioni facenti capo fondamentalmente alla democrazia cristiana e ai suoi partiti alleati compreso il partito socialista e che per questo si debbano anche cedere porzioni di sovranità e si comincia con la sovranità monetaria quindi nel 1981 Ma chi si faceva propugnatore di questa tesi? Ma intanto era cambiata la dirigenza della Banca d'Italia ed era passata la linea diciamo più estremista facente capo sull'Europa facente capo a Carlo Azzeglio Ciampi poi la sinistra democristiana era divisa fra la sinistra sociale che faceva capo a Don H10 che era su posizioni euro moderate e la sinistra politica che faceva capo a De Mita e soprattutto a Beniamino Andreatta e che invece era su posizioni euro estremiste e giustificavano questa rinuncia alla sovranità monetaria cioè alla possibilità dello Stato di fare investimenti pubblici produttivi per impedire alla classe politica stessa corrotta e clientelare di avere potere quindi per sottrare potere alla classe politica si cominciò a rinunciare alla sovranità monetaria quindi agli investimenti pubblici e quindi la classe politica poi si trovò a occuparsi solo di nomine, di poltrone eccetera perché non c'era più da discutere degli investimenti pubblici che ormai dovevano minimizzarsi e degli investimenti pubblici la componente più importante era sicuramente quella riguardante riguardante le partecipazioni statali l'energia, i trasporti e via dicendo dove l'Italia stava primeggiando a livello mondiale Mario Monti era molto vicino a De Mita quindi potremmo dire che già da allora era un euro estremista ma di Monti mi ricordo la posizione sulla scala mobile che era stata considerata interessante da Dona Catten però poi era sicuramente un rappresentante della scuola monetarista non era un keynesiano i keynesiani si stavano abbandonando anche Andreatta aveva pur essendo stato un keynesiano era entrato in quella che noi chiamiamo la corrente neo-keynesiana li chiamiamo anche keynesiani bastardi di cui il maggior rappresentante era il premio Nobel Modigliani i quali proponevano appunto questo passaggio rispetto alla moneta che impedisse alla classe politica di decidere investimenti in infrastrutture per lo sviluppo industriale per lo sviluppo del paese questo è stato un errore cruciale che ha determinato poi l'esplosione dei tassi di interesse e quindi del debito pubblico ma soprattutto l'accorciamento di orizzonte delle imprese industriali che assumevano sempre di meno perché dovevano valutare il profitto immediato e non potevano stare a fare grandi progetti industriali quindi quello che accadde per gli investimenti pubblici accadde anche per gli investimenti privati a causa degli alti tassi di interesse io negli anni 80 feci una ricerca che dimostrava che i 50 gruppi più importanti pubblici e i 50 gruppi più importanti privati facevano la stessa politica cioè investivano la metà dei loro profitti non in attività produttive ma nell'acquisto di titoli di Stato per la semplice ragione che i titoli di Stato italiani rendevano tantissimo e quindi si guadagnava di più facendo investimenti finanziari invece che facendo investimenti produttivi questo è stato l'inizio della nostra deindustrializzazione il passaggio successivo però è molto più grave e riguarda appunto il periodo che va dalla fine degli anni 80 all'inizio delle privatizzazioni Ci arriviamo, ci spieghi però noi che non siamo economisti come si lega questa nuova politica monetarista con l'esplosione dei tassi di interesse questo è un passaggio tecnico ce lo spieghi un po' per... Sì, allora fino al 1981 la Banca d'Italia se un'emissione di obbligazioni pubbliche che servivano per ottenere moneta da parte dello Stato non veniva completamente coperta comprava lei il restante quindi era la compratrice di ultima istanza come diceva il mio maestro Federico Caffè questo faceva sì che se l'emissione avveniva a un tasso di interesse mettiamo basso del 3% e una parte non veniva comprata proprio perché il rendimento era basso la Banca d'Italia comprava quello che avanzava e quindi emetteva moneta stampava moneta e comprava... Poi? Con il divorzio fra Tesore e Banca d'Italia era data alla Banca d'Italia la facoltà di non essere obbligata sembra un po' adesso un gioco di parole però in fondo lo stesso divorzio fra Tesore e Banca d'Italia di cui stiamo parlando non è che obbligava la Banca d'Italia a non comprare i titoli le dava la facoltà di non farlo e la pratica voluta da Carlo Azzeglio Ciampi fu di applicare questo divorzio in modo letterale per la cronaca ricordo che l'Inghilterra aveva le stesse regole perché noi copiammo quelle ma non le praticava cioè la Banca d'Inghilterra quando serviva stampava sterline a go go mentre la Banca d'Italia si rigidì su quella facoltà che gli era stata riconosciuta attraverso una semplice lettera del Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e quindi la parte di emissione obbligazionaria che non veniva coperta causava un aumento del tasso di interesse finché non si piazzava questo residuo ma poi questo tasso di interesse andava ad essere applicato su tutta l'emissione della mattinata quindi in questo modo c'è stata una rincorsa dei tassi di interesse verso l'alto che ovviamente ha causato in effetti io feci un appunto ci fu una discussione col Ministro del Tesoro in cui dimostrai oltre ogni ragionevole dubbio applicando semplicissimi tassi di capitalizzazione come sanno tutti gli economisti che il debito pubblico sarebbe raddoppiato avrebbe superato il PIL addirittura mi dissero che il debito pubblico non poteva superare il PIL se no il sistema saltava che io gli feci presente che non era così perché il debito è uno stock e il PIL è un flusso ma non avevano deciso una cosa non volevano più cambiarla non accettavano né le critiche di Federico Caffè né quelle di Paolo Leon figuriamoci le mie insomma per cui poi litigammo io andai via da quell'amministrazione ecco ma quindi lo scopo era siamo a metà degli anni Ottanta il peggio deve ancora arrivare lo scopo era soltanto quello nobile di sottrarre alla politica la gestione dei soldi e quindi andare verso un'Europa che avrebbe potuto salvarli in qualche maniera o c'era anche di sotto una strategia che poi avrebbe portato al nostro processo non solo di deindustrializzazione ma anche di privatizzazione qual è stata la roadmap successiva? allora nel mio ultimo libro che ha tradito l'economia italiana infatti affronto questo problema è identifico due tipi di personaggi cioè quelli che in buona fede volevano fare i salvatori della patria come hai ricordato tu ma anche quelli che traguardavano nella possibilità di una svendita delle partecipazioni statali nelle privatizzazioni allora si chiamavano dismissioni la possibilità di fare immensi profitti come fu quindi c'è stata anche una parte di questa componente diciamo così anti-statalista anti-italiana anti-sviluppista che ha fatto affari strepitosi e su cui qualcuno infatti ha proposto una commissione di indagine parlamentare arriviamo quindi con questo ragionamento all'inizio degli anni 90 però sì diciamo che c'è il passaggio successivo è prima dell'inizio degli anni 90 perché all'inizio degli anni 90 avviene il crollo del sistema monetario europeo perché non era sostenibile per la semplice ragione che produceva tassi di interesse più alti per i paesi deboli che quindi si indebolivano di più e tassi di interesse più bassi per i paesi forti che quindi si rafforzavano di più mi ricorda qualcosa a un certo punto il sistema è assaltato ma era prevedibile quello che invece al momento perché noi ci dobbiamo rapportare raccontando gli eventi al tempo in cui accadevano perché col senno del poi siamo tutti bravi che nell'89 emerso che qualcuno aveva detto lì nel gioco lo scuro funzionario probabilmente l'apice diciamo così della classe politica italiana che tutto sommato faceva capo in quel momento Giulio Andreotti capisce che bisogna trovare una strada un po' diversa perché se no si compromettono gli interessi nazionali fra le altre cose quindi mi manda un biglietto mi scrive Giulio Andreotti e mi dice caro dottore vuole collaborare con noi per cambiare l'economia di questo paese che io entusiasticamente aderisco per farla breve io mi trovo al vertice del ministero del bilancio che era il ministero cruciale alla fine dell'estate del 1989 quindi in quel momento Andreotti era più vicino alle posizioni americane e più lontano dalle posizioni europeistiche estreme passano poche settimane perché dalla fine di agosto quando io ho ripreso servizio al mio ex ministero dell'89 fino a quando praticamente vengo di nuovo estromesso che è novembre e cosa passano due mesi insomma praticamente in questi due mesi io metto mano e si sa in giro che io sto mettendo mano ci fu anche un mio incontro molto in tensione con Mario Monti alla Bocconi io stavo con il ministro appunto con il mio ministro e ci fu questo scontro piuttosto forte sul problema della moneta e del debito e del debito pubblico avevamo posizioni completamente completamente diverse la tua qual era? la mia era che praticamente si dovesse operare per abbassare i tassi di interesse in qualunque modo e che dimostrai appunto che la banca di Inghilterra aveva lo stesso regime nostro cioè il divorzio ma non lo praticava quindi quando serviva al paese stampava sterline insomma questo era il problema la sua? la sua niente che si dovesse andare avanti su una politica di forte europeizzazione e quindi si dovesse continuare con questo forte debito pubblico insomma dunque dopo dopo questo incontro dopo questo incontro alla Bocconi in effetti si scatena l'inferno perché arrivano pressioni dalla Banca d'Italia dalla Fondazione Agnelli dalla Confindustria e vengo a sapere che persino un certo Helmut Kohl aveva telefonato al Ministro del Tesoro Guido Carli per dire c'è qualcuno che rema contro il nostro progetto adesso le parole le ho ricostruite in base a delle testimonianze dirette però vengono fatte pressioni sul mio Ministro affinché io venga messo da parte cosa che avviene nel giro di un pomeriggio nel senso che io ottengo dal Ministro la verità mi rivela la verità la scriviamo su un pezzo di carta perché lui temeva ci fossero dei microfoni gli faccio vedere questo pezzetto di carta dico ci sono state pressioni anche dalla Germania sul su Ministro Carli perché io smetta di fare quello che stiamo facendo e lui mi fece di sì con la testa per cui ho mantenuto rispetto per questa persona però me ne sono andato che cosa era successo? che fino all'estate del 1989 Andreotti era contrario alla riunificazione tedesca e questo fatto impediva qualunque progresso ovviamente perché la Germania voleva fare la riunificazione su a quella famosa battuta e sì sì ah ecco infatti in quei tempi Andreotti chiesero ma lei ce l'ha tanto con la Germania? no io amo la Germania anzi l'amo talmente tanto che mi piace che ce ne siano addirittura due questa era la frase la frase che insomma passano appunto pochi mesi e invece la Germania pur di ottenere la riunificazione si mette d'accordo con la Francia per rinunciare al Marco che era quello che faceva paura alla Francia però perché questo accordo fra Kohl e Mitterrand regga occorre deindustrializzare l'Italia indebolire l'Italia perché se no che fanno si passa una moneta unica e l'Italia stava fiorendo stava ancora diciamo stava già perdendo colpi l'industria italiana da vari punti di vista però era una situazione ancora di dominio del del panorama manifatturiero internazionale quello italiano eravamo la quarta potenza che esportava insomma voglio dire eravamo qualcosa di grosso dal punto di vista industriale e manifatturiero bastavano alcuni interventi bisognava fare degli investimenti riprendere degli investimenti pubblici e cose del genere dopodiché ovviamente si entra nella stagione delle privatizzazioni spinte agli anni 90 in cui praticamente quasi scompare la nostra industria a partecipazione statale quindi decidono la industrializzazione dopodiché c'è qualcuno che si attiva sì la deindustrializzazione significa che non si fanno più politiche industriali non ci dimentichiamo che poi c'è stato un periodo in cui Bersani era ministro dell'industria in cui diciamolo teorizzò che non servivano le strategie industriali adesso sta dicendo il contrario ma poteva pensarci pure prima per dirne una ok non si fanno politiche per le infrastrutture questo è importante perché è un paese che è molto lungo quindi è costoso trasportare le merci da sud a nord mentre nord-est e nord e già in Europa dal punto di vista geografico e infrastrutturale il centro e il sud sono lontani quindi voglio dire potenziare le infrastrutture sarebbe stato strategico poi alla fine degli anni 90 si introduce la banca universale quindi la possibilità per la banca di occuparsi di meno del credito all'economia e di occuparsi di più di andare a fare attività finanziarie e speculative che poi dopo avrebbero prodotto solo dei disastri come sappiamo la fine del Glass Day Galactine si esatto poi la mancanza di strategie efficaci della stessa Fiat dell'industria privata ripeto in quegli anni la confindustria era solo presa dall'idea di introdurre forme di flessibilizzazione sempre più forti che poi avrebbero prodotto la precarizzazione aumentare i profitti quindi una visione poco poco profonda insomma di quello che è lo sviluppo industriale e quindi perdita di valore delle imprese perché le imprese guadagnano di valore se hanno prospettive di profitto che dipendono dalle prospettive di vendita questo è l'ABC se invece difendono il profitto oggi perché devono realizzare e devono portare ai proprietari una certa redditività ma poi voglio dire compromettono il futuro di un'azienda questa perde di valore si narra di questo incontro su Britannia qual è stato il ruolo anche dell'Inghilterra secondo te l'Inghilterra non è che avesse un interesse diretto all'indebolimento dell'Italia nel Mediterraneo ma ha una strategia complessiva in Africa e in Medio Oriente che ha sempre teso ad aumentare i conflitti il disordine e c'è la componente diciamo che fa capo alla corona di cui sono espressioni anche alcuni movimenti ambientalisti che poi si debba puntare a una riduzione drastica della popolazione del pianeta quindi è contraria ad ogni politica che invece favorisca lo sviluppo così come lo intendiamo comunemente quindi è vero che su Britannia si presero delle decisioni? ma sicuramente qui dobbiamo capirci allora Bildenberg Britannia il gruppo dei 30 dei 10 gli illuminati di Baviera sono tutte cose vere gente che si riunisce come in certi club massonici e decidono delle cose ma non è che le decidono perché veramente le possono decidere è perché non trovano resistenza da parte degli stati l'obiettivo è quello di togliere di mezzo gli stati nazionali allo scopo di poter aumentare il potere di tutto ciò che è sovranazionale multinazionale e internazionale in questo senso dopo di che è ovvio che se gli stati sono stati indeboliti o addirittura nei governi ci sono rappresentanti di questi gruppi che siano il Britannia il Bildenberg gli illuminati di Baviera eccetera eccetera negli Stati Uniti d'America c'era la confraternita dei teschi di cui facevano parte padre e figlio Bush per dire sono diventati presidenti degli Stati Uniti è chiaro che dopo questa gente bene o male risponde a questi gruppi che li hanno bene o male agevolati nelle loro ascese quindi alla fine decidono ma perché dall'altra parte è mancata da parte dei cittadini e degli Stati una seria resistenza quindi praticamente questi dominano la scena quindi non è colpa di questi ma è colpa di chi non si oppone abbastanza questi rappresentano si riuniscono decidono delle cose però rimangono lì ci sono sempre stati i circoli dei notabili che hanno deciso delle cose mica è detto che siano riusciti sempre a farle però in questo caso sono riusciti in questo caso ci sono riusciti perché non hanno trovato resistenza di colpa nostra beh sì un po' sì secondo me c'è l'Ignavia del cittadino l'idea l'idea montiana che l'aumento della base monetaria produca inflazione è stato ciò che ha consentito di attrarre anche i sindacati in un'area di consenso per quelle riforme sbagliate che si sono fatte a partire dal 1981 quando invece si è dimostrato anche in tempi recenti che l'emissione e l'autorizzazione di mezzi monetari per migliaia decine di migliaia di dollari e di euro non ha prodotto l'iperinflazione quindi evidentemente è qualcos'altro che genera l'inflazione non è la quantità di moneta la quantità di moneta può influire sui tassi di interesse attraverso le tensioni della domanda di essa ma non è che influiscano direttamente sull'inflazione certo paradossalmente potrebbe essere il contrario se la moneta è poca e i tassi di interesse aumentano quelli hanno effetti sui livelli dell'inflazione quindi l'ignoranza degli attori sociali è stata o anche un certo tornaconto qualcosa che tornava una cosa non esclude l'altra diciamo che quelli che avevano volevano avere un certo tornaconto facevano leva sull'ignoranza dei fatti monetari dei partiti dei sindacati della classe dirigente e anche una certa scomparsa della scuola keynesiana dovuta a vari fattori anche oscuri quindi privatizzazioni anni 90 cosa succede poi dopo gli anni 90 la situazione praticamente comincia a precipitare quando inizia questa crisi che è il 2001 cioè quando praticamente gli operatori di borsa si accorgono che anche i titoli che avevano tirato fino a quel punto e-commerce e-economy prodotti avanzati eccetera non danno più rendimenti crescenti allora cominciano a svendere comincia la speculazione a ribasso in quelle condizioni le banche che avevano preso grandi impegni con i sottoscrittori dei loro titoli perché erano diventate come ho ricordato prima universali per garantire questi rendimenti fanno operazioni di derivazione operazioni di derivazione sono tipo catene di Sant'Antonio tu acquisisci denaro per dare i rendimenti e quindi posticipi la possibilità di dare i rendimenti agli ultimi che ti hanno affidato delle somme questa cosa si è fatta nel giro di 2-3 mesi perché dopo c'era la ripresa era sempre stata fatta dalle banche un'operazione tecnica diciamo così quindi di 3 mesi in 3 mesi si diceva che arrivava la ripresa arriva la ripresa centri studi economisti osservatori studiosi ricercatori tutti sui loro libri paga prevedevano di lì a 3 mesi di lì a 6 mesi la ripresa non si sa perché perché le politiche economiche volute per esempio da Bush eccetera tipo la riduzione delle tasse erano chiaramente politiche che non avrebbero risolto il problema della crescita poi tutte queste guerre americane speculazioni vanificavano la potenza di un dollaro che se fosse stato destinato a investimenti produttivi alla ricerca alle infrastrutture eccetera probabilmente avrebbe creato una situazione accettabile invece non si faceva niente di tutto questo non si avviavano gli investimenti produttivi quelli pubblici perché i privati non investono se non c'è se non c'è prospettiva di profitto come avviene in borsa così avviene nell'economia reale e quindi siamo andati avanti anni e anni con queste operazioni di derivazione a emissione di altri titoli tossici finché si è scoperto intorno al 2007 che il sistema bancario era saltato nel senso che nessuna banca prestava liquidità all'altra sapendo che l'altra faceva le stesse cose che faceva lei stessa cioè speculazioni in perdita la massa dei valori persi dalle banche sui mercati finanziari superava per la prima volta la massa di quello che le famiglie le imprese e la stessa economia criminale mettevano dentro il sistema bancario di qui la crisi di liquidità che deriva da questo cioè che le perdite superavano i depositi e i conti correnti a questo punto è intervenuta la Fed e ha cominciato a finanziare le banche anche europee nelle loro esigenze di liquidità la Fed ha emesso dal 2008 al 2011 17 mila miliardi di dollari cioè di più del PIL americano di più di tutto il debito pubblico americano autorizzato o immesso mezzi monetari in qualche modo e poi ha chiesto all'Europa di fare altrettanto l'Europa nel 2000 alla fine del 2011 ha offerto qualche resistenza e poi dopo anche con la gestione di Mario Draghi ha fatto il quantitative easing cioè dare moneta illimitatamente per consentire alle banche di non soffrire di questa crisi di liquidità derivante dalle perdite che superano nettamente le entrate ovviamente l'economia è sempre più in crisi quindi i depositi che seguono gli investimenti produttivi sono sempre di meno e le perdite invece sono sempre di più allora il problema qual è? vi faccio da me una domanda perché continua questo sistema? questo sistema continua per due ragioni la prima è che chi ha i vertici delle banche e lo abbiamo visto anche il monte dei paschi guadagna sulle perdite perché non guadagna su quello che sono le performance come sarebbe logico ma guadagna sul numero delle operazioni finanziarie che si compiono attraverso algoritmi matematici sono tantissime nell'unità di tempo quindi questa gente si porta a casa i 50-60 milioni di dollari di euro scompare nei paradisi fiscali e poi le banche possono andare a ramengo non vanno a ramengo perché poi le banche centrali che sono controllate dalle stesse banche che dovrebbero andare a ramengo li riforniscono di liquidità però allora il problema qual è? la seconda domanda non solo le banche centrali anche i governi perché abbiamo fatto noi sì ma sono le banche centrali che autorizzano i mezzi monetari perché i governi è una componente anche i debiti pubblici ma i monti bond che ce l'ha messo i soldi sì però i debiti pubblici sono bruscolini rispetto a quello che hanno fatto nel caso delle perdite delle banche stiamo parlando di decine di trilioni di dollari e di euro sì sì questo non discuto però dico quello che abbiamo dato di monti bond alla fine avrebbe risparmiato forse l'imu agli italiani per cui sulle singole famiglie questo discorso sì sicuramente sulle singole famiglie certo avremmo potuto risparmiarci l'imu invece che darli al monte dei paschi certamente certamente però è una piccola cosa rispetto ai 3-4 quadrilioni di titoli tossici che oggi sono in giro per il mondo significa 3-4 mila decine di miliardi sono numeri 3-4 mila trilioni un trilione sono mille miliardi quindi praticamente stiamo parlando di grandezze stratosferiche siccome le perdite si aggirano sul 10% mediamente che è quello che ovviamente questi titoli non rendono avremmo bisogno a regime non di qualche decina di trilioni come hanno dato oggi le banche centrali alle banche ma praticamente di circa 300 dai 300 ai 400 trilioni di dollari cioè in pratica stiamo parlando di 6 volte il PIL mondiale cioè sono cose spaventose ecco quindi come se ne esce adesso? se ne esce con un accordo fra gli stati Cina India Stati Uniti d'America possibilmente Europa e qualcun altro che congelano tutta questa massa la garantiscono la trasformano invece in mezzi monetari che servono per lo sviluppo quindi a quel punto poi il problema diventerebbe la capacità di progettare infrastrutture voli su Marte acchiappare gli asteroidi per farne delle miniere voglio dire se andiamo se ci vogliamo allargare se ci sono queste capacità progettuali industriali produttive forze disoccupate eccetera noi ne usciamo diversamente la teoria ci porta a pensare che potrà esserci una grande botta imperinflattiva che cancellerà tutti i debiti traduci per i non capenti? allora dai debiti si esce in vari modi primo perché si hanno dei redditi che consentono di ripagare in qualche modo i debiti e questa è la via maestra quindi non ci si dovrebbe mai indebitare per somme che si sa non ci mettono in condizione di ripagarli attraverso i nostri redditi e questa sarebbe la regola numero uno quindi il debito non è un male il debito è un bene se tu hai il reddito nel caso degli stati il PIL sufficiente per poi fronteggiare le situazioni c'è la remissione del debito che è una possibilità anche parziale che io ho sollevato in una mia ricerca sulle banche italiane anni fa quando ci fu la crisi del 2007 2008 che tutto sommato agevolerebbe anche le banche e ci metterebbe tutti in condizione di avere fondamentalmente per 8 anni un 5% in più di reddito riducendo del 40% i crediti delle banche questa è un'altra possibilità e poi c'è l'inflazione che praticamente se non ci sono indicizzazioni si mangia il debito perché cresce il decresce il valore della moneta e conseguentemente decresce l'importanza del debito queste sono le strade che si possono aprire a livello operativo nei confronti della gestione del debito del futuro a livello nazionale per esempio andrebbe bene per l'Italia o parli a livello europeo a livello nazionale c'è appunto chi parla di varie misure riguardanti il debito pubblico in realtà la cosa migliore sarebbe riprendere il percorso della crescita e quindi minimizzare l'importanza del debito rispetto alla ricchezza nazionale non ci dimentichiamo che le ricchezze pubbliche e private in Italia sono 10 volte il PIL quindi ovviamente ce n'è non è che non riusciremo a ripagare il debito però il debito non è che si deve ripagare come credono alcuni il debito sta lì è importante ridurre i tassi di interesse e che i tassi di interesse siano più bassi dei tassi di crescita allora non è non è un problema questo è il modo sano di affrontare il tema del del debito pubblico diversamente può succedere ecco come è successo in Grecia che per 300 miseri miliardi di euro poi se ne perdano a livello europeo 3.000 nelle borse allora ci si interroga ma questa gente si rende conto che agisce non solo contro la Grecia ma anche contro gli altri popoli e paesi europei ma chi comanda effettivamente in questa Europa si rende conto oppure vogliono obiettivi di questo tipo per poi raggiungere una sorta di asservimento dei popoli di perdita ulteriore di sovranità degli stati per obiettivi poi fondamentalmente come è stato in Italia con le privatizzazioni di depredazione di conquista di guadagni senza lavoro ma adesso c'è un altro ciclo di privatizzazioni sembra che ci stiamo avvicinando a quello il problema delle privatizzazioni è anche quello dei prezzi di vendita perché se ovviamente come è successo negli anni 90 ci si aggirava intorno ai valori di magazzino voi capite di che truffa stiamo parlando è chiaro che se poi i prezzi di vendita fossero troppo alti nessuno comprerebbe bisogna trovare una via di mezzo ma in realtà bisognerebbe cercare di ragionare sulle capacità strategiche e sul mantenimento di poli pubblici di eccellenza che servissero per rilanciare la ricerca il campo dell'acquisizione delle migliori tecnologie per il trattamento dei rifiuti che per esempio in Italia avrebbe delle prospettive enormi non ci dimentichiamo che in Italia siamo depositari di due brevetti fondamentali uno è dell'Italgas e l'altro dell'Ansaldo per produrre degli apparati relativamente piccoli che consentono al chiuso di trasformare quindi senza emissioni di trasformare i rifiuti in energia elettrica in altri in altri sottoprodotti utili per l'agricoltura e per l'edilizia e dove stiamo andando in Europa in questo momento? Allora io avevo identificato una spaccatura di impostazione anche al momento in cui Monti era diventato presidente del Consiglio dei Ministri fra le posizioni americane e le posizioni europee in Europa si diceva prima lacrime e sangue prima il risanamento e poi lo sviluppo il risanamento dei conti pubblici e poi lo sviluppo questa strada si sa che è impossibile perché tu non puoi fare il pareggio di bilancio o obiettivi ancora più ambiziosi se non c'è la ripresa in condizioni di ripresa è facile ridurre la spesa pubblica ma in condizioni recessive ridurre la spesa pubblica significa far aumentare la recessione con conseguenze sulle entrate e sulle uscite ma è possibile che secondo te questi non lo sanno? ma bisogna vedere quali sono i loro obiettivi quali sono? che ne so quali sono i loro obiettivi possono immaginare sono obiettivi anche di asservimento dei popoli chiaramente mentre la posizione americana era una posizione di sviluppo cercando di non peggiorare i conti pubblici che è già una versione possibilista ma non è la concezione né di Monti né della Merkel né del polo europeo chiaramente quindi al momento le uniche speranze sono quelle di una politica nuova che rintroduca la Glass-Steagall che riproponga la sovranità monetaria o a livello europeo se no si torni alle valute nazionali o al limite alla doppia circolazione che sarebbe assolutamente sostenibile valuta nazionale più euro? sì terza cosa da fare è una gestione diversa dei debiti pubblici tranquillizzante perché ci sono tanti altri modi per gestire i debiti pubblici in parte qualcosa addirittura è stato anticipato da Draghi che è intervenuto sul mercato secondario raffreddando gli spread quindi praticamente forse Draghi ha fatto un retromarcia rispetto alle decisioni dell'inizio degli anni 80 di cosiddetti divorzi fra governi e banche centrali poi in Italia dobbiamo assolutamente riposizionare la pubblica amministrazione oggi è piazzata in modo di creare un'alleanza fra irregolari e criminali e questo ci porta a una sconfitta la pubblica amministrazione si deve piazzare in un altro modo si deve piazzare fra gli irregolari e i criminali i criminali li deve trattare come meritano gli irregolari invece deve avere tutto un altro atteggiamento cioè deve essere la stessa pubblica amministrazione che deve realizzare gli adempimenti previsti dalle normative e quando c'è scontro perché spesso c'è scontro fra norma e diritto fra norma e buonsenso fra norma e equità il funzionario pubblico deve essere messo in condizione di scegliere il diritto l'equità e il buonsenso e vedere di tutelarsi rispetto alla arida applicazione della norma se non si fa questo non si va da nessuna parte e poi quello che è forse più importante che riassume un po' tutto dobbiamo acquisire quelle strepitose tecnologie oggi a disposizione dell'umanità che rimetteranno in gioco tutti gli equilibri geopolitici a livello internazionale e a livello locale ma che sono la nostra più grande speranza per l'ambiente e per lo sviluppo per esempio tutte le tecnologie di trasformazione e di trattamento dei rifiuti urbani dei rifiuti solidi urbani ci sono ripeto delle tecnologie alcune sono già applicate ad esempio a Berlino si stanno si stanno applicando tu vai a conferire i tuoi rifiuti e ti danno dei soldi poi ricevi energia gratis non inquini non ci sono i cassonetti per strada non ci sono i mezzi comunali o municipali che intralciano il traffico per trasportare l'immondizia non ci sono cattivi odori non ci sono emissioni nocive questo è fondamentale l'azzeramento delle emissioni genotossiche e la limitazione di quelle tossiche nell'ambito dei parametri internazionali facciamo un ragionamento sullo scenario geopolitico globale spiegaci come si bilanciano gli interessi degli Stati Uniti e quelli dell'Europa con quelli della Cina se questi Stati Uniti e dell'Europa convengono oppure no agli Stati Uniti se c'è una pressione secondo te da parte loro in che modo la Cina può influire secondo te in questo processo se è un influsso positivo o negativo lanciamoci in queste speculazioni diciamo che dopo Kennedy gli Stati Uniti sono sempre più risultati preda dei britannici lì che c'è un nodo evidentemente fondamentale da sciogliere peraltro gli Stati Uniti hanno drammaticamente cercato in determinate situazioni regionali come può essere la più importante il Mediterraneo dei partner che adeguati l'Italia questa partita non se l'è saputa giocare dopo la caduta del muro di Berlino per le ragioni che poi dicevamo all'inizio la Cina si sta avvicinando agli Stati Uniti d'America sotto certi profili ma è ancora lontanissima sotto altri profili non dobbiamo neanche sopravvalutare certi comparti manifatturieri che se anche fossero totalmente ceduti alla Cina e all'India ma c'è anche il Brasile ma c'è anche il Sudafrica ci sono tante altre realtà emergenti nel nel pianeta non sarebbe un dramma problema è che noi abbiamo un futuro ad esempio nei nostri rapporti con la Cina se capiamo che non dobbiamo andare lì in Cina per fare un business qualunque ma se capiamo che cedendo anche parti delle nostre produzioni industriali e manifatturiere otteniamo però una maggiore penetrazione rispetto ai nostri prodotti di qualità di eccellenza perché non ci dimentichiamo che stiamo confrontando un mercato di 60 milioni di persone con un mercato che è 20 volte più grande quindi è chiaro che se noi rinunciamo a qualche cosa ma riusciamo anche a esportare un po' quel po' moltiplicato per la domanda che in questo momento sta crescendo ci dà tutto un altro risultato però della Cina parlerei da un altro punto di vista all'ultimo congresso del partito comunista cinese è stato deciso un grande cambiamento di rotta cioè di puntare di più sulla crescita della domanda interna e di meno sulle esportazioni questo potrebbe essere l'inizio della fine della cosiddetta globalizzazione non ci dimentichiamo che la globalizzazione è il sistema che premia il produttore peggiore quello che paga di meno il lavoro quello che fa lavorare i bambini quello che non rispetta l'ambiente quello che non rispetta la salute noi questa è la causa principale delle crisi che stiamo vivendo che invece di premiare il produttore migliore abbiamo premiato il produttore peggiore questo ha danneggiato le industrie europee e soprattutto l'industria italiana chiaramente e non solo l'industria anche l'agricoltura perché si demanda la questione della tutela dei diritti oltre i confini dove non c'è un controllo si deve rimettere si deve rimettere in piedi l'economia nel senso che deve avere tutta la sua importanza l'economia reale l'economia reale deve avere una finanza che l'aiuta poi se c'è un'altra finanza che va a fare disastri da qualche altra parte che non influiscano sull'economia reale sulla vita dei cittadini questo deve essere come dire il primo punto che corrisponde alla rientroduzione della legge Glass-Steagall in pratica per questo possono essere utili le doppie e le triple circolazioni monetarie le monete complementari e addirittura la rientroduzione di monete nazionali pur in presenza di una moneta internazionale ma per scontrarsi o per far fronte alla Cina è necessario avere gli Stati Uniti d'Europa o basta anche il piccolo guscio di noce italiano come alcuni dicono io non penso che ci si debba scontrare o frenare la Cina bisogna avere delle strategie industriali e non solo industriali in grado di difendere i nostri interessi i nostri valori i nostri principi le nostre vocazioni dopodiché ci si confronta con i cinesi e si vede quali sono le sinergie che possono essere messe in campo si deve fare un discorso di carattere strategico secondo me ma la politica di Nino Galloni quale sarebbe uscire dall'euro e recuperare la sua moneta monetaria o puntare sul più Europa come realizzeresti questo? Allora a me interessa che ci siano spese in disavanzo perché se c'è crisi se c'è disoccupazione è un crimine puntare al pareggio di bilancio ovviamente se gli stati hanno pareggio di bilancio è possibile che l'Europa faccia gli investimenti in disavanzo e allora mi sta benissimo l'euro cosa che non c'è cosa che non c'è ma è il terzo passaggio che potrebbe essere favorito dalla gestione Draghi io non lo escludo perché chi immaginava che avrebbero dato mezzi monetari illimitatamente alle banche chi immaginava che sarebbero intervenuti per raffreddare gli spread acquistando i titoli pubblici sui mercati adesso il terzo e ultimo passaggio è quello di accettare di autorizzare mezzi monetari per la ripresa per lo sviluppo per gli investimenti produttivi l'importante però che questo non avvenga in una logica di quantitative easing cioè la politica monetaria sbagliata può impedire lo sviluppo ma la politica monetaria giusta non produce lo sviluppo cioè la moneta è una condizione necessaria ma non sufficiente dello sviluppo quindi non basta approntare mezzi monetari a go go e allora si acchiappa lo sviluppo questa è una visione e una visione di tipo liberista riguardante riguardante le emissioni monetarie in realtà bisogna fare dei progetti di infrastrutture di ricerca di ripresa industriale di salvaguardia della salute degli interessi dei cittadini e soprattutto dell'ambiente e sulla base di queste grandi strategie approntare i mezzi monetari che certamente non sarebbero scarsi quindi se io dovessi ripetere i miei punti fondamentali immediati una legge che ripristini la netta separazione fra i soggetti che fanno speculazioni finanziarie sui mercati internazionali dai soggetti che devono fare credito all'economia perché la prima cosa è il credito la più grande componente della moneta il 94% della moneta è credito poi il discorso della sovranità monetaria come ho detto prima o gli stati o le Unioni Europea devono fare spese in disavanzo per acchiappare la ripresa una diversa gestione dei debiti pubblici che è possibile un diverso posizionamento della pubblica amministrazione perché il cittadino deve vedere un amico nello Stato nella pubblica amministrazione quindi fermare anche questo progetto di polizia europea senza controlli che potrebbe compiere qualunque azione senza doverne rispondere a nessuna autorità Eurogendorf Eurogendorf con base in Italia a Vicenza a Vicenza e quinto acquisizione di tutte quelle grandi tecnologie che oggi sono a disposizione dell'umanità per migliorare veramente le condizioni di vita di tutti ultima domanda tedeschi cattivi amici o buoni? i tedeschi sono posizionati nella storia e nella geografia in modo di doversi in qualche modo espandere se devono assumere una posizione di leader devono anche accettare di rivedere le proprie politiche estere quindi un paese che voglia essere leader come sono stati gli Stati Uniti d'America importano di più di quello che esportano se i tedeschi non accettano di importare più di quello che esportano non possono neanche pretendere di essere leader che esportano